ma ora tutti ragazzi siamo ancora noi giù per youtube oggi siamo su fifa 14 ragazzi è appena uscita la demo ovviamente subito scaricata e ci facciamo subito un bel video la prima volta che ovviamente ci giochiamo è carino va sempre uguale da 20 anni che c'è la stessa sigla si sta connettendo il server ea dai perché si connette subito connettiti connettiti beh comunque vi dico subito ragazzi questo fifa dovrebbe essere ovviamente dovrebbe essere migliore mettiamo esperto classico eccetera le squadre presenti in questa demo dovrebbero essere milan paris angermen barcellona tottenham borussia dortmund e poi qualche altra a c'è anche il bocca junior e il new york qualcosa prendiamo ovviamente paris angermen ragazzi contro pazzi il tottenham dai raga una partita tra anche tanto per cominciare la maglia di paris angermen troppo strafiga è belle formazioni sono quelle hanno non hanno ancora tolto bay dal tottenham è solo la demo chi se ne frega mettiamo una cosa però una formazione più aggressiva di questa tipo 4 2 3 1 il mio modulo preferito regas 4 2 3 1 è veramente devastante nel fifa 13 ovviamente negli altri in questo spero spero che sia devastante lo stesso mettiamo facciamo una cosa da baura mettiamo bastore a centrocampo la vezzi e cavani come come ala e poi ci mettiamo verratti appositi a gomotta che veramente inguardabile nel paris angermen hanno cambiato anche i giochini prima la partita vediamo a si devo abbattere quello lì sembra tipo space invaders via o l'unico spazio che c'era l'ho preso e regas dai dai preso bella si vabbè tanto non ce la farò mai vediamo no vabbè andiamo subito ragazzi beh il primo impatto il camp no sembra davvero figo la vezzi passa verratti il feeling è veramente diverso da fifa 13 cioè i giocatori sono molto più lenti prima andavano tutti a mille all'ora adesso mi sembra più ragionata come come gioco allora lucas sulla fascia non va su ecotolo ferma arrivata laterale per giallè verratti verratti per la vezzi aia no vedi proprio più lento il gioco tutto il gioco però dopo vediamo con i giocatori veloci tipo lucas qua dovrebbe andare via in velocità ibra che numero ibra ibra non va via tornato da vertonghen fai una cappellata attenzione no rimedia vertonghen muta in area per adebayor triangolo adebayor lancia lancia bale attenzione bale bale giallè provvidenziale interdito di giallè alla tiago silva ostacolato attenzione giallè va sulla fascia di nuovo per lucas lucas attenzione punta l'uomo assoluto lo ferma ancora i giocatori non sono veloci comunque ragazzi eh ma comunque più avanti farò un video più approfondito dove vi spiegherò bene tutte le caratteristiche di questo nuovo fifa o comunque sia le caratteristiche della demo che si possono vedere passo recupera palla attenzione sta parlando del milan non so perché vabbè forse sta parlando di libra attenzione de mele sigrigu uscita sicura del nostro portierone la vezzi parte in contropiede fermato subito la vedo dura questo segnale in questo fifa la vedo durissima non riesco neanche arrivare in area tra un po ragazzi al vertonghen al rinvio per la de bayor che non riesce a saltare la vezzi fermato subito cavani non riesce a controllare la palla allora giro palla del tottenham per tonghen per dembele dembele va sulla fascia per denzei denzei rientra numero di denzei bail bail in posizione più centrale a de bayor attenzione lancia sandro sandro davanti al portiere sandro palla all'alto prima occasione anzi seconda occasione direi per il tottenham ma il pari san germain non può lasciare certi buchi in difesa la riparte lucas giro palla la vezzi pastore attenzione lancia cavani e il matador il matador cavani rientra rientra cavani gran parata il portiere all'angolo lucas dentro per tiago silva parata ancora il tottenham non prende gol su quest'azione all'asso e cotto sulla fascia va in verticale per denzei denzei vuole il triangolo con bail però si ferma bail in surplus sandro va per la de bayor c'è un buco attenzione per lennon lennon vuole crossare lui no rientra attenzione cavani addirittura è rientrato lennon ancora tiene crossa non ce la fa allora cavani lancia la vezzi in ripartenza la vezzi per ibra ibra attenzione per la vezzi la vezzi solo la vezzi può andare attenzione la vezzi uno contro uno la vezzi palo palo clamoroso di la vezzi incredibile poi ibra perde palla ma palo clamoroso e la riparte il tottenham l'abito dice che finisce qui 0 a 0 primo tempo come è fatto bene la vezzi i giocatori sono veramente migliorati dominio del pari saint germain in questa prima frazione di gioco col 51 per cento di possesso palla però con molti più tiri questo non mi ricorda molto windows 8 con queste finestrone così però è molto molto bello il tottenham batte il calcio d'inizio bail per sandro sandro capo aperto sì come no allora per walker walker torna indietro ma improvvisamente lancia sandro troppo lungo il lancio molto impreciso il tottenham in questi primi 50 minuti di gioco allora sacco maxwell verticale per cavani che perde palla riparte il tottenham sandro per vie centrali per dembélé dembélé lancia de bayor attenzione si ferma de bayor e allora siri gula fa sua lancia maxwell maxwell sulla sua verticale per cavani attenzione cavani cambio di gioco del matador per preciso su giallet che però sbaglia attenzione dempsey recupera palla rientra tiago silva recupera ma sua volta la riperde cross in mezzo la difesa spazza cavani in contropiede per ibra per lucas la butta su cavani cavani lancio lungo impreciso però come stanno giocando male le due squadre signori dembélé lancia de bayor attenzione de bayor contro sirigu sirigu abbatte de bayor ma non è fallo sirigu ancora salva la difesa del paris saint germain e allora bayl tenta il tiro fermato ripartenza del paris saint germain incredibile cavani cavani lancia lungo per lucas lucas non ci arriva la palla va a yoris yoris rilancia lungo per a de bayor che non prende palla però tiago silva rilancia per lucas cavani allarga benissimo su maxwell maxwell prova a lanciare non ce la fa a walker riparte il tottenham sbaglia e in più c'era fuori gioco anche di bayle che svaria un po su tutto il fronte offensivo palla corta sbagliata dal paris saint germain allora lennon riparte sulla fascia attenzione sacco no bayl scusate bayl cross in mezzo uuuu salvataggio in extremis di tiago silva e intanto uscito bayl per olby cambio stranissimo del tottenham ma il paris saint germain vuole vincere a lucas rinentra per verratti che passa ibra attenzione ibra se ne va ibra si sono ibra imovic ibra imovic spalorete all'ottantatresimo la sblocca lui slatan ibra imovic go lasso se ne va in mezzo a due poi scaraventa contro il palo e finisce il rete la palla e il paris saint germain è in vantaggio all'ottantatresimo il tottenham non ci sta vuole reagire subito dato che mancano sei minuti e poco meno defoe defoe tentazione personale ma non ce la fa lo allendano per dembélé lancio lungo per defoe attenzione sirigu di faccia paratona di sirigu che vieta il pareggio agli avversari allora lucas ancora per ibra ibra è il baluardo del paris saint germain lancia lanciato cavani si fa intercettare la palla ma tiene la rimessa allora cavani con le mani per pastore pastore in mezzo verratti chalet chalet ancora per ibra ibra para gli oris calcio d'angolo il tottenham è in difficoltà in questi fasi finali del gioco lucas in mezzo ibra sfiora il raddoppio ma è murato da un difisore del tottenham ancora lucas dalla bandierina attenzione lucas sacco 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 2 a 0 l'autogol di vertonghen anche se era possibile un gol di sacco fifa ha dato l'autogol di vertonghen ma ci va bene lo stesso 2 a 0 raga grandissima prestazione paris saint germain che riesce a spugnare il camper no perché c'è solo questo nella demo attenzione l'ultima azione del tottenham va puttane e finisce qui ragazzi 2 a 0 paris saint germain contro il tottenham la prima partita su fifa 14 molto positiva direi prossimamente vi metterò le mie opinioni le nostre opinioni su fifa 14 e noi ci vediamo al prossimo video ragazzi baule a tutti mi raccomando iscrivetevi commentate condividete fate tutto quello che volete come al solito e noi ci vediamo al prossimo video baule a tutti baulea a tutti baule a tutti baule a tutti baulea a tutti Grazie.